Musica Nella sesta di ritorno del girone C di eccellenza la Vertovese vince 6 a 0 contro la Forza Costanza il derby Bergamasco non ha storia dall'inizio alla fine la Vertovese allunga a 9, l'artista ha risultati utili consecutivi 7 vittorie a 2 paio, consolida il secondo posto in classifica raccogliendo 3 punti importanti dominando il match per tutti i 90 minuti dalla parte opposta Forza Costanza, quinta sconfitta in 6 partite nel girone di ritorno conferma tutte le sue difficoltà, non reagisce mai sconfitta netta e pesante per il team di Martinengo che per riuscire a conquistare la salvezza dovrà invertire la rotta Zorzo Zanga, venite nel momento di grandissima forma oggi l'avete confermato, partita senza storia Sì, è stata una partita a senso unico abbiamo fatto gol in tutti i modi, è stato un arcobaleno di gol dopo i due pareggi contro due squadre forti oggi ci hanno confermato e abbiamo superato l'esame Partita senza storia fin dall'inizio l'avete sbloccata praticamente in avvio di match e poi loro non sono mai riusciti a rientrare Sì, era importante partire forte e stare sul pezzo tutta la partita perché poi sono partite trappola che se non fai gol subito rischi di non aprirla mai e di ingolfarti quindi bene così, sia al primo sia al secondo tempo siete al secondo posto in classifica continuate a viaggiare forte l'obiettivo a questo punto sono i play-off Sì, play-off è un obiettivo importante primo obiettivo noi ora facciamo il nostro campionato e poi i davanti perdono punti meglio noi guardiamo al nostro e stiamo andando bene In mezzo al campo giocate spesso con il doppio play te e Morosini come ti trovi con questa disposizione tattica? Molto bene lui è più in impostazioni un po' più di rottura ma comunque ci trova molto bene avevamo giocato già insieme anni fa poi siamo amici quindi ci troviamo dai Siamo con il direttore Alberto Luzzana momento difficile per Forza Costanza l'avete confermato anche oggi Sì, è un periodo molto negativo quest'anno è stata un'annata difficile si sarà dall'inizio abbiamo avuto degli infortuni delicati abbiamo cercato di intervenire durante il mercato però la situazione in questo momento qua è che siamo fragili molto fragili andiamo in difficoltà alla minima difficoltà non abbiamo la reazione giusta adesso ho parlato alla squadra cerchiamo di almeno cercare di salvare salvabile e di avere la mentalità di lottare quello che ci è mancato oggi assolutamente di lottare su tutte le palle cercare di credere nelle nostre possibilità anche se è difficile però ecco essendo che siamo, ti ripeto un uomini di calcio un uomini di sporco queste situazioni qua sono da risolvere da risolvere internamente abbiamo piena fiducia del mister dello staff però adesso i ragazzi devono dimostrare di avere fiducia anche loro in noi e devono sicuramente dare qualcosa in più dopo sapevamo benissimo che oggi non era la partita venire qua a fare punti noi i punti dovevamo fare nelle partite precedenti dove abbiamo giocato anche bene ma abbiamo raccolto niente e oggi la cosa che mi ha displicito di oggi è vedere una squadra così rimissiva una squadra debole mentalmente la cosa mi ha dato fastidio stare in tribuna prendere sei gol vedere i giocatori che non reagiscono non è bello e quindi adesso qua ho un discorso proprio che i giocatori devono cambiare la mentalità devono credere un po' e se Gamioia è detto in Bergamasco se non voglio giocare al calcio possono anche stare a casa capito abbiamo bisogno di gente che quando mette la maglia si impegna sputa l'anima e abbiamo bisogno di questa situazione qua è un momento delicato cerchiamo di far quadrato e cerchiamo di risolvere in settimana la situazione capito allora sapevamo la forza sapevamo che è una squadra che se gli concedi qualsiasi piccola cosa la rende qualcosa di importante e purtroppo è stato così noi siamo stati polli perché fino al rigore l'abbiamo gestita certo sempre difendendoci e ovviamente visto anche la forza della squadra d'avversaria poi ti ritrovi rigore poi ti ritrovi dopo 5 minuti un secondo rigore con l'espulsione e la partita era finita solo un miracolo poteva riaprirla purtroppo indipendentemente dalla partita di oggi con la sconfitta di oggi adesso bisogna essere sinceri e onesti a dire che abbiamo toccato il fondo o da oggi ci rialziamo o perlomeno proviamo a rialzarci o se no la vedo davvero difficile potersi salvare sicuramente noi partiamo all'inizio dell'anno con l'obiettivo di salvarci e questo deve essere quello fino alla fine dell'anno non sarà facile ci proveremo faremo di tutto per star fuori dai play out anche se ripeto sarà una missione davvero a questo punto difficilissima però sicuramente faremo di tutto noi siamo una squadra dove oggi abbiamo schierato titolare un 2006 entrato un 2007 ma noi dietro questa cosa non ci nascondiamo lo sappiamo allora poi partiamo da un presupposto squadre che erano partite per vincere il campionato adesso sono lì con noi per salvarsi ok che hanno dei budget nettamente stratosferici rispetto ai nostri quindi è giusto che noi siamo lì che loro siano lì forse è quello il loro problema più grande perché Paladina San Paolo D'Argon la stessa Zognese se mettiamo sulla bilancia noi e loro è ovvio che noi siamo lì e lotteremo fino alla fine quello sicuramente nessuno con noi farà una partita facile iniziando da domenica perché il nostro obiettivo è mantenere la categoria rigore al secondo hai detto me lo calcio io basta Felappi sì mi ha fatto un piacere Felappi mi ha lasciato il rigore e quindi è venuta bene dai ci iniziamo adesso speriamo di concludere senza perdere una partita il traguardo ormai è là e ci diamo adesso siamo ancora l'ultimo passettino per arrivare in fondo però ci siamo dai siamo lì che abbiamo sudato tutto l'anno sarebbe un peccato perdere gli ultimi punti le ultime partite siccome non c'è ancora poi la matematica la certezza di essere servito il campionato quindi non vogliamo ancora niente poi vedremo quando sarà raggiunto il traguardo di un attimo di rifiare ecco di rifiare un attimo l'anno scorso eravamo a più 7 anche noi giù a l'anno scorso più 7 a inizio ritorno quest'anno eravamo anche noi a più 7 più 9 quando abbiamo iniziato gennaio ma siamo riusciti a non perdere un punto quindi diciamo che quest'anno è andato tutto bene quindi poi la squadra è piena sia i primi 11 che anche quelli che entrano dopo quindi tanta roba poi ecco il vantaggio è che chiunque entra fa bene anche Poiati sta avendo da un po' tripletta tripletta anche io un gol poi segnare fa sempre bene quindi ecco come dicevo chi entra entra fa gol quindi ci gira tutto bene diciamo quest'anno grazie a tutti